Ci sono due strategie che si possono utilizzare quando siamo veramente stanchi, quindi quando sentiamo proprio che vogliamo saltare l'allenamento perché non abbiamo quella voglia, quella motivazione, ma neanche le energie per mille motivi, che potrebbe essere magari una questione realmente fisica, quindi fisicamente non rendiamo, non abbiamo abbastanza energie, o potrebbe essere anche psicologica. Questa sera era proprio una di queste situazioni, ero completamente scarico, ma lo sentivo che ero scarico fisicamente, però sapevo che domani non mi potevo allenare, quindi non volevo saltare l'allenamento. Come possiamo fare per sfruttare realmente il nostro allenamento anche quando siamo demotivati o stanchi? Allora, per i principianti sicuramente la cosa che dobbiamo fare è fare sempre lo stesso volume di allenamento, quindi facciamo lo stesso identico allenamento, ma carichiamo molto di meno. Perché? Perché un principiante deve acquisire un automatismo motorio, deve acquisire una capacità tecnica di attivarsi sotto carico, di essere sempre più attivo, i muscoli si devono attivare sempre meglio sotto allenamento perché non siamo abituati. Un avanzato invece che sa già attivarsi sotto carico, sa già sprigionare forza come si deve, in quel caso ha molto senso togliere una serie per ogni esercizio. Quindi non facciamo il nostro solito allenamento con tutto il volume normale, ma facciamo una serie in meno. Però i carichi e le ripetizioni rimangono identiche, perché se noi facessimo meno carico, lo stimolo su un avanzato non sarebbe adatto, non sarebbe stimolante. Quindi rischieremo di fare praticamente un allenamento a vuoto. Invece se siamo molto spenti, non ci sentiamo bene, basta togliere una serie per esercizi in modo tale che l'intensità sia sempre alta, lo stimolo sia sempre buono, ma il volume di allenamento, visto che siamo spenti, non siamo belli attivi, è minore. Quindi riusciamo a gestirlo molto meglio. Queste sono due piccole strategie sul principiante e sull'avanzato che fa veramente la differenza e permette di sfruttare gli elementi anche quando siamo stanchi.